Si respira un moderato ottimismo dopo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per parlare della GAM. Al tavolo con il responsabile dell'unità di gestione delle vertenze di aziende in crisi, Giampiero Castano, Regione Molise, Amministrazione GAM e Sindacati, ha preso parte anche Massimo Romani, amministratore delegato di Amadori, il gruppo che si è aggiudicato alla vendita dei beni in concordato preventivo. Amadori si è presentata all'incontro con un piano ben strutturato, più o meno 40 milioni da investire così ripartiti, 6 milioni per l'incubatore, 2,5 per l'allevamento e 30 per il rilancio del macello. Un'ottima notizia hanno commentato Regione e Sindacati. Questi ultimi però non si sentono rassicurati del tutto dal piano di rilancio e hanno posto delle condizioni precise sui tempi e sui contratti perché è proprio su questi due fattori che va a giocarsi la partita più importante. Amadori avrebbe chiesto di trasformare il tempo indeterminato in determinato, cosa su cui i sindacati non sono ovviamente d'accordo. Inoltre l'azienda vorrebbe partire dal rilancio dell'incubatore tralasciando per il momento gli altri settori e questo quindi garantirebbe il ritorno al lavoro solo di una parte dei dipendenti gamma e non di tutti i 280. Noi vogliamo rilanciare tutta la filiera, dicono i sindacati, e vogliamo che tutti tornino al lavoro, ma di questo ne riparleranno in un nuovo incontro il 10 gennaio. Regione, Ministero e Amadori si rincontreranno invece il 21 dicembre per affrontare il tema del contratto di programma della filiera avicola. La speranza dei sindacati è quella che in tale data si affrontino anche problemi legati alla tempistica, perché venga accorciata il più possibile. È stata firmata la casa integrazione straordinaria per i 280 lavoratori e questa è una buona notizia, commentano i sindacati, che però ora incalzano. Bene il piano operativo di Amadori, bene l'impegno di Regione e Ministero, ma vogliamo sapere dove queste ultime reperiranno le risorse, visto che dovranno contribuire per un 40% al rilancio della gamma, fa presente Franco Spina della CGL. E inoltre resta il quesito fondamentale da sciogliere, visto che il piano Amadori prevede la possibile ristrutturazione in 8-9 mesi dell'incubatore, gli allevamenti in due anni e il macello in tre, e visto che la cassa integrazione copre solo un anno, cosa si prevede di fare per i lavoratori che non torneranno subito in azienda? Bisognerà pensare ad ammortizzatori aggiuntivi con crude spina.